Hanno nuovi problemi vecchi e l'avvertenza dei tirocinanti di inclusione sociale rimane sempre aperta e in attesa di una svolta, si spera positiva, per i circa 4.000 precari calabresi. I rappresentanti di Cigelle, Cisleguille e USB hanno inviato nelle scorse ore una richiesta ufficiale al prefetto di Catanzaro Enrico Ricci per riprendere il confronto per continuare ad affrontare sulla base dei reciproci affidamenti finora raggiunti ai vari livelli l'avvertenza inerente ai lavoratori di cui in oggetto. Da qui l'esigenza di un incontro da tenersi nella sede del Palazzo di Governo è allargato anche ai vertici del Lanci, oltre che agli eletti calabresi al Senato e alla Camera. Le speranze sono tutte riposte nel Decreto Mille Prologhe, che in questi giorni sarà l'esame del Parlamento per la conversione in legge. E' in questo provvedimento che si punta a inserire una norma che consenta assunzioni per 18 mesi e a 18 ore settimanali per circa 4.000 precari calabresi da anni al servizio degli enti locali e di altre realtà come Aspe e Camere di Commercio. Il costo complessivo dell'operazione ammonterebbe a 60 milioni di anni con la Regione disposta a contribuire alle spese a carico dello Stato. La soluzione comunque non è dietro l'angolo. I terocinanti sono in grossa parte persone proveniente dalla mobilità in deroga e collocate a partire dal 2016 in diversi enti locali dove svolgono le più svariate mansioni. Finora la Regione ha assicurato la copertura finanziaria per sostenere il rinnovo contrattuale dei lavoratori, ma difficilmente potrà darla anche in futuro. Non per mancanza di volontà politica, ma per una serie di difficoltà normative. Secondo una ricognizione condotta dalla Regione, sono solo 300 i laureati in un bacino di 4.000 persone, poco più di 1.000 sono diplomati, tutti gli altri non hanno alcuna qualifica. Dunque sono poco attrattivi per i comuni invece alla ricerca di personale qualificato per sostenere progetti e altre attività amministrative. Così tra le ipotesi da tenere in considerazione c'è anche quella della presentazione di un emendamento al 1.000 proroghe che tenga conto dei diversi profili dei lavoratori precari e quindi prevede percorsi differenziati. Certo è che la trattativa si annuncia serrata anche perché trovare a Roma i fondi per sostenere contrattualmente l'intero bacino non sarà affatto semplice. Bisogna adesso comprendere quali saranno gli impegni in grado di assumere i diversi attori istituzionali coinvolti nell'avvertenza.